Ben trovati, nuovo appuntamento con l'ospite. In questa puntata parleremo dell'amministrazione di un comune, del governo di una città, della nostra in particolare, però da un punto di vista diverso. Solitamente la prospettiva privilegiata è quella politica, oggi invece ci occupiamo dell'altro versante, chiamiamolo così, quello della burocrazia, spesso sotto accusa, spesso criticata, spesso in contrasto con la politica, ci sembrava giusto dare voce anche ai dirigenti del comune di Sciacca e lo facciamo con uno dei dirigenti storici da diversi anni ormai nella pianta organica del nostro comune, l'architetto Aldo Misuraca che intanto ringrazio per aver accettato l'invito. Senta, intanto lei mi deve dire, visto che c'è stata una recente rimodulazione delle competenze, cosa le è stato tolto, cosa le è stato dato, perché l'impressione o no, alla fine, le faccio la domanda per chiedere, l'impressione è che alla fine queste competenze ruotino, ma le persone siano sempre le stesse. Sì, anche se si può migliorare ovviamente. La questione è questa, sappiamo tutti della carenza di personale, però nella rimodulazione, devo dire che questo è stato fatto, si può cercare di concentrare più o meno in uno o in un altro dirigente, come il personale ovviamente ha detto, per raggiungere determinati obiettivi. Nel caso mio mi sono stati affidati diverse deleghe, fra le quali c'è anche la progettazione per gli appalti dei finanziamenti europei, comunitari e nazionali, quindi anche il sindaco ha dato fiducia al mio ufficio per continuare quello che già era in corso. Mi è stato dato anche il randagismo, è una bella materia su cui intendo concentrarmi per bene, già sin da stamattina ci siamo incontrati sia con i volontari, animalisti, ma anche con gli addetti ai lavori e vorrei cercare veramente di metterli assieme per fare una buona orchestra, per poter assieme poi raggiungere degli obiettivi vari. Partiamo proprio da questo, in che fase siamo? Un po' calata l'attenzione, ma il problema non è superato, lo vediamo dai cani di randaggio ancora in giro per la città, lo vediamo dal fatto che i canili sono sempre pieni e che quindi non si riesce proprio a risolvere a monte il problema, nonostante noi abbiamo vissuto una fase drammatica, se non ricordo male due anni e mezzo fa, una fase drammatica in cui l'emergenza del randagismo era diventata quella prioritaria e però come spesso succede in questa città poi le cose cala un po' l'attenzione, i problemi non si risolvono. Allora, il randagismo non mi è nuovo, io lo avevo già, avevo l'ecologia nel 2012, 2013, adesso non ricordo le date, ma ai primi anni, nel primo decennio avevo l'ecologia e quindi il randagismo, quindi le problematiche le conosco. La questione riguarda anche il sistema legislativo. La regione siciliana e quindi sotto sollecito anche del gruppo degli animalisti, delle associazioni, ammette il cane randaggio, è già il principio da cui si parte. Sterilizzato e rimesso nel territorio. Sterilizzato, microcippato, regolarizzato, se aggressivo deve stare nel canile, se non è aggressivo deve essere rilasciato nel territorio. Quindi quando vediamo la presenza dei randaggi nel territorio, purtroppo è la legge che lo impone. Questo come si può migliorare? Cercando di regolarizzare questo essere nel territorio del randaggio, non deve stare nel cassonetto della spazzatura o addirittura creare branchi per poi creare problemi seri. Quindi su quello stamattina già abbiamo fatto questo discorso, vorremmo puntare. Non è facile perché nel momento in cui anche creo delle aree destinate, anche di aree comunali, ben attrezzate per poterle anche alimentare, comincio a creare anche il branco. Quindi anche lì bisogna stare attenti ai numeri. Però sicuramente qualcosa si può fare e si deve fare. Sicuramente una grande mano di aiuto la possono dare le associazioni. Associazioni animaliste che più volte si sono messe a disposizione del comune e che lamentano da parte loro questo scarso coinvolgimento invece. Stamattina ho incontrato qualcuno di loro e ho detto siamo sulla stessa linea lunghezza dell'Unda. E perché non si è riusciti finora invece a sfruttare questa... che potrebbe essere una forza? Sull'ultima gestione io non posso parlare. Quando l'avevo io ho cercato di farlo. Spesso il problema è la mancanza di reperimento di aree. La normativa, ripeto, sul randaggismo che impone addirittura è il cane di quartiere. Quindi la filosofia da cui parte la normativa nazionale e regionale è quella di accettare il cane di quartiere. Ma questo cane di quartiere deve essere ben tenuto. Non può essere affidato alla casualità di qualcuno che gli dà. Senta, e poi passiamo ad altro. A proposito di sterilizzazioni, in che fase siamo? Cioè noi riusciamo quantomeno a controllare questo aspetto, ad effettuarle regolarmente di concerto con l'ASP? Perché anche di questo si era parlato. Fino a poco fa mi sentivo con alcuni dei veterinari. Sì, teniamo conto che io ho servizio da sabato. E quindi ho solo due giorni di ruotaggio. E poi mi riprometto di fare almeno delle visite trimestrali in ogni canile. Perché anche i canili vanno regimentati. Mi risulta che quello di Sambuca è in ottime condizioni. Qualcuno me l'ha definito addirittura un hotel per dire, ma quello di Sciacca non scherzare meno. Però se c'è da migliorare si migliorerà sicuramente. È una materia su cui bisogna concentrarsi e essere tutti assieme. Gli scontri fra animalisti, fra comune, non esistono perché non hanno senso. Quindi su quello intendo puntare e concentrarmi giustamente per risolvere, per avere qualche obiettivo, qualche risultato. Tra le nuove deleghe, chiamiamolo così, con i politici facciamo così, no? Lei citava anche la progettazione per accedere ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali. Veniamo da una recente polemica che è quella dei progetti dichiarati addirittura irricevibili dalla regione. E allora le chiedo subito, ma proprio non siamo capaci di attenerci ai bandi, di presentare un progetto che abbia le carte in regola? Che cosa succede in questo comune? Io dico che siamo capacissimi e posso fare un elenco di decine e decine di finanziamenti che abbiamo avuto e che abbiamo in corso. Quando si presentano decine e decine di progetti, non tutti possono essere accettati. È ovvio questo. Non entro nel merito di quelle discussioni che si sono fatte su chi l'ha presentato, eccetera, eccetera, perché in effetti dal mio ufficio non è passato, ma in ogni caso c'è stata anche una volontà dell'amministrazione di quello presentare. Teniamo conto poi che la ferrovia, la fer servizi che si occupa, ha già venduto alcuni tratti. Quindi non è un progetto semplice che poteva facilmente essere ricevuto. Ripeto, abbiamo tanti altri progetti, però il ricevuto di quelli non si parla, si parla solo di quello non ricevuto. E la fer servizi ha già venduto, dicevo, alcuni caselli, alcuni tratti, per cui è da rivedere quella progettualità. È vero che è inserito nel piano triennale, ma non è inserito al primo anno del piano triennale, è inserito al secondo, al terzo anno. Per cui è una programmazione di lunga scadenza. Cosa bisogna fare? Rivedere i tratti che perlomeno non sono più disponibili e su quelli lavorarci. Quello che però il cittadino si chiede a questo punto è se il progetto è difficilmente realizzabile poi. Non è difficilmente realizzabile. Perché si presenta, cioè sciupiamo delle energie per presentare comunque dei progetti consapevoli già che almeno per come sono presentati non saranno accolti. Tengo a precisare che non è passato dal mio ufficio la presentazione, quindi su questo non posso rispondere. Lei comunque, se le faccio, è un problema simile ad altri, alla fine di altri progetti, nel senso che tanti... Quando noi presentiamo, mi scuso per l'interruzione, quando noi presentiamo progetti, nel momento in cui li presentiamo, abbiamo consapevolezza dell'ottima probabilità di finanziamento. E ci riusciamo. In ultimo abbiamo avuto tutti i solai delle scuole, 70 mila euro per ogni scuola dell'antincendio. Credo che di aver visto anche un'intervista allo stesso sindaco, ha fatto un elenco di opere che ci hanno finanziato. Quindi l'ufficio è in grado... No, è parte proprio della considerazione del sindaco su questi progetti. lei ha detto... Sì, è stata... Intanto, in prima battuta, ha detto che noi abbiamo perso una grande opportunità. Dopodiché ha detto... Sì, ma in fondo questi progetti erano difficilmente poi realizzabili. Allora il cittadino si chiede, ma scusatemi, delle due l'una, cioè perché si presenta un progetto se già non è attinente, magari difficilmente realizzabile... Deve chiedere a chi l'ha presentato, perché questo non posso dare il merito. C'è un fatto però molto... che fa pensare molto. Non viene accettato con quale motivazione? Perché manca il supporto digitale? Perché manca il dischetto? Impossibile. Tra l'altro, una vecchia normativa, che è la 241, risale al 1990, impone a ogni funzionario, compresi noi, una sorta di soccorso istruttorio. Cioè, se manca una cosa non sostanziale, che non è essenziale, io devo chiedere integrazione, non posso rifiutare. Quindi la motivazione che mi si dà, ritengo che sia tendenziosa da parte della regione. Non entro nel merito di aspetti politici, che anche le norme deontologiche me lo proibiscono, ma c'è qualcosa che fa pensare nel rifiuto da parte della regione e credo che il sindaco voglia lavorare su questo. Senti, e sul progetto della Villa Comunale invece qual è stato il problema? Liero, un altro discorso, un progetto, tra l'altro, condiviso con un'associazione, un progetto che tra l'altro segue un intervento già sulla Villa Comunale che è stato avviato. Anche lì, indicevibile. L'associazione non può darci per legge il progetto. Quindi gli unici progetti che nascono, nascono dall'ufficio o su incarico all'esterno, incarico certificato. Sulla Villa Comunale, ripeto, fa parte di quel blocco che non ha presentato il mio ufficio. C'era una fase, ma lì è rimasta, che era la fase della presentazione alla sovrintendenza. La sovrintendenza aveva posto determinati requisiti che doveva avere quel progetto e quindi lì si era fermato. Quindi diciamo in corso d'opera, in corso di accettazione. La presentazione di quel progetto assieme alle Greenway. Ripeto, non passa dal mio ufficio. Su quello non posso documentare. Però, ripeto, da parte della Regione, l'irricevibilità per chi manca il supporto digitale fa pensare molto. Lei dice, noi abbiamo avuto finanziati tanti progetti, però le chiedo anche, c'è questa nuova opportunità? Ci sono tanti fondi a disposizione e adesso sta nella capacità dei singoli enti di cogliere queste opportunità. Si è tanto parlato del fatto che il Comune di Sciacca non ha un parco progetti. Non è in grado subito di recepire queste opportunità. E così, perché se è così, non ci siamo dotati nel tempo di un parco progetti? Allora, le soluzioni sono due. O io istituisco un ufficio di progettazione che non deve essere disturbato. Perché se quell'ufficio, non faccio nome, ma il geometra X, che è addetto a seguire una pratica di progettazione, di preparazione della parte, perché poi seguire un finanziamento è complesso, molto complesso. Non è solo il progetto, ma è tutto lì, è ancora più complesso, fino all'esecuzione poi. Se viene chiamato perché il rubinetto della scuola Y si rompe, lì c'è qualcosa che non funziona. Ma è qualcosa che non funziona la normativa. La normativa ha dato pure ai dirigenti scolastici, per esempio, una certa autonomia nel gestire queste piccole riparazioni. Però anche i dirigenti scolastici devono essere autorizzati dal comune, quindi la spesa è sempre dal comune. E quindi anche loro si trovano, come dire, incerti in questa scelta. Per tornare alla domanda, le soluzioni sono due. O si istituisce un ufficio che è dedicato a quello e deve essere fatto anche da personale laureato. Ricordo a me stesso che il mio ufficio non aveva, perché da sabato non ce l'ho più, personale laureato. Nonostante sono dei geometri molto in gamba, con un'esperienza che parallela quasi paritaria a quello di un laureato, però ovviamente con delle difficoltà anche per numero, non solo per qualità. Oppure l'altra soluzione è dare gli incarichi agli esterni. Quindi carare in bilancio 50-60 mila euro per incarichi all'esterno, per istituire uno staff con incarico biennale, per seguire tutti i bandi di finanziamento. Dalla regione agli assessorati, spesso ci vado per motivi di lavoro, ci dicono vi prego, vi preghiamo, spendete, perché dalla comunità europea ci bacchettano. Quindi la colpa diventa nostra. E poi a cascate diventa pure vostra. Quindi si tratta di fare sistema fra tutte le scale poi gerarchiche della pubblica amministrazione. Da quella nazionale, regionale a quella locale. È inutile fare la punizione, se il ruppi non è, adempia allora la punizione di carattere penale oppure la sanzione. Non risolve il problema la sanzione. Architetto, mi faccia capire una cosa. Quindi noi nel tempo non ci siamo dotati di un ufficio che si occupasse solo di questo o abbiamo fatto la scelta di conferire incarichi esterni. C'è un problema di ora, un problema che va avanti da anni. Io ho cercato di fare, e devo dire che l'amministrazione mi ha dato pure la possibilità di farlo, di adottare una soluzione mista. In parte quei quattro geometri che avevo li ho forzatamente obbligati a fare, a seguire le procedure d'appalto per i finanziamenti, tenendo conto, ricordo i nomi, l'ingegnere Tulone, il geometra Simone Bullo, l'ingegnere Gerratano, che gestivano tutte queste. Non ci sono più. Con quota 100, tutto azzerato. Quindi l'ufficio è raso al suolo. Quindi pretendere dall'ufficio che poi si faccia il lavoro di un'orchestra, è impossibile, è solo un piccolo gruppetto. Allora, lì subentra poi la scelta amministrativa della politica. Se si punta su una scelta di questo tipo, sicuramente si vorrà fare, ritengo, bisogna istituire sicuramente un ufficio preposto a quello. Ma finora questa scelta quindi non è stata fatta? Non si è voluto investire? È stata fatta in parte, ma per le possibilità. Non è che poi il sindaco trova in tasca un tecnico e dice dammi un tecnico laureato, ma dov'è? Ricordo pure che anche l'ufficio urbanistica dove ci sono dei tecnici laureati sono pochissimi. L'architetto Nicolosi, l'architetto Russo è finito lì. Che devono gestire anche loro pratiche, anche vecchie di sanatoria, urbanistica, edilizia. Cioè siamo tutti nella stessa situazione. E non si può chiedere di togliere quello o mettere l'altro. Semmai, io lì la ritengo una soluzione, uscire fuori dalla rigidezza del settore, quarto settore, quinto settore, anche temporaneamente. Se c'è da partecipare un bando che scade a luglio, signori, per due mesi voi fate questo lavoro, vi dedicate là e poi ritornate al posto di prima. Questo ovviamente sempre non tralasciando quello che è in corso. Sono delle scelte molto difficili. Quindi è un problema anche di organizzazione? Anche l'organizzazione. Ognuno di noi come dirigente può organizzare e cambiare, ho cercato di farlo, ma nei limiti di, nel caso mio, di solo i quattro geometri, proprio quattro dico i quattro. Per il discorso del parco progetti, per ritornarci, in parte c'è, ma anche i progetti vanno aggiornati continuamente. Quando esce un preziario regionale 2019, punto è a capo, tutto da aggiornare. Non solo, nel frattempo la FES servizi vendeterreni, la villa comunale, ci sono altri aspetti che bisogna, quindi quel progetto che lei ha già in banca dati, è già superato dopo un anno, dopo due anni. Quindi bisogna continuamente aggiornare. Noi ce l'abbiamo attualmente questo parco progetti, magari da aggiornare, da rivedere, poi aggiornare è una cosa, crearlo completamente o un'altra? In parte sì, l'ho fatto io, ma come? Con i carichi all'esterno. Stiamo iniziando i lavori al mercato ittico, abbiamo finito via Tomolieri, inizieremo i lavori nelle scuole, sono tutti incarichi di progettazione all'esterno, perché non abbiamo neanche capacità di progettazione, perché ci vuole proprio un ufficio, non solo, che deve essere dotato non solo di persone, ma anche di strumentazione. Oggi fare un progetto non è più il progetto degli anni 80. Negli anni 80 io vedo dei progetti che c'erano solo due o tre tavole con piante, prospette e relazione. Adesso oggi sono proprio veramente complesse e poi vanno rendi contati. Nel momento in cui si sbaglia la comunità europea ci toglie il finanziamento e sono rischi che si corrono. Quindi ognuno di noi opportunamente deve stare attento, forse anche rallentando, perché quando c'è lentezza, non è lentezza per inerzia, tenendo conto che qua si lavora mattina e sera e forse anche notte, quindi non ci risparmiamo su questo. È lentezza dedicata alla complessità delle procedure, che deve essere affidata a personale che ha competenza innanzitutto, ma che è dedicato a quello. Se deve ogni momento staccare, perché c'è un palo della luce che sta accadendo, una fognatura che si rompe o una scuola che chiama, è impossibile lavorare. Però viene anche da chiedersi, allora gli altri comuni come fanno? Perché noi abbiamo comunque esempi, per ora c'è l'esempio di Montevago, io le dico, io sono alla parte del cittadino e lei adesso mi dà la sua visione. Montevago, una serie di progetti finanziati, altri comuni. Anche noi, anche noi. Sì, ma noi molto meno. Non è vero. No. È una diceria. Cioè lei mi sta dicendo che noi abbiamo tantissimi progetti, che abbiamo avuto finanziati tanti progetti. Se vuole perdere mezz'ora. Allora mi faccia capire, parliamo solo di quelli che non vengono bocciati, ma questi esistono pure. Esattamente, si parla solo di quelli che vengono bocciati. Però in questi che vengono bocciati sono opportunità perse. Lei diceva... Tutti gli enti che presentano progetti, sovrintendenze, igieni civili, non è che hanno tutti i progetti approvati. Il comune è la sede del sindaco ed è il primo sotto accusa. Ma molti enti presentano e hanno... Ma nessuno dice niente. E non è vero che altri comuni ne hanno più di noi. Sfido io. Possiamo metterci l'elenco in mano e vediamo. Ma non è che è una gara fra ragazzini. È solo per dire... Non è vero. Non è vero. È solo una fantasia. Non è una fantasia. Montevago pieno rispetto. È una... La fantasia non sono fatti. Una fantasia che è tendenziosa. Non entro in merito che è di carattere politico, ma non tecnico. Che è di carattere politico. Perché ovviamente ogni opposizione tende ovviamente a denigrare l'avversario. Questo cosa c'è. I progetti delle scuole li hanno avuto finanziati tutti i comuni. Quindi anche noi in questo. Perché c'è stato proprio anche un input e soldi a valanga per le scuole. Finalmente direi. Finalmente direi. Ma abbiamo presentato progetti finanziabili. Dico questi li hanno ottenuti tutti. Quindi non siamo stati bravi solo noi. Tutti. 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 Ma li abbiamo avuti anche noi. Posso fare un elenco infinito. Sì. Adesso nel settore scuola ci andiamo perché voglio nello specifico toccare anche i vari interventi che si stanno facendo. Guardiamo la questione anche ad un altro punto di vista. Lei dice noi lavoriamo nei limiti del possibile perché c'è carenza di personale e di apparecchieture. Però perché si innesca ogni volta che qualcosa va male, un progetto non viene accolto. Lo scaricabarile. C'è non questa tendenza alla politica che dà la colpa alla burocrazia. La burocrazia che a sua volta rimpalla dicendo noi siamo pochi e se dobbiamo fare tutto è inevitabile che qualche cosa ci sfugga. Allora nella prospettiva che lei diceva di quella sinergia necessaria poi affinché le cose vadano a buon fine, tutto questo non va a danno poi della città. C'è questo rimpallo. Sì, però dal canto nostro noi abbiamo un dovere. Il primo dovere è rispettare le regole e le leggi. Siamo dei pubblici ufficiali. Quindi se ci sono leggi complesse, il codice degli appalti è un cinepraio di normative accavallate fra di loro. Esce il decreto sblocca cantieri, poi esce il decreto semplificazioni che forse è il decreto complicazioni più che semplificazioni. Per cui abbiamo come strumenti, perché come strumenti di lavoro non sono solo i computer, sono le normative. Quando le normative sono semplici e chiare e dove non ci sono dubbi perché il Tarre Catania dice una cosa e il Tarre Palermo dice un'altra, allora l'operatore lavora tranquillo, fa una gara d'appalto serenamente, non senza la fobia di fare l'errore. Per cui quello rallenta molto. La collaborazione con la... Rallenta o se è un architetto misurata? Perché possiamo dire anche che negli anni questo lavoro è andato a rilento proprio perché l'apparato burocratico teme molto le procure? Rispetto a prima, quando era la politica ad assumersi, stiamo andando tanto indietro negli anni, agli anni 90, tutte le responsabilità? Evidentemente sì, ma se uno sa di lavorare bene e specialmente studia, come dico ai miei studiate, perché qua l'unica è studiare e quindi lo studio e l'apprendere continuamente la conoscenza proprio ferma delle regole, delle leggi, ti dà più sicurezza, se no rischi l'errore e l'errore a volte viene preso ovviamente per un fatto anche tendenzioso che può essere frutto di oggetto di... L'errore fa parte anche del lavoro, quindi occorre assumersi anche la responsabilità. Un dirigente si riassume, io me li assumo, però un geometra comunale ovviamente ha proporzionalmente quello che sono le sue competenze. Quindi lei mi dice in un certo senso questo rallenta, rallentato un po'. Rallentano le normative, i sindaci, chiunque si siano, non faccio un discorso politico, faccio un discorso sulla figura del sindaco, è una sorta di parafulmine, tutti addosso, perché ogni cosa che fa è colpa del sindaco, quindi capisco anche la posizione del sindaco, che a un certo punto si sfoga e sugli uffici e con chi si deve sfogare? Con il dirigente, con il rimballo di responsabilità. Ma lo comprendo, potrei fare la stessa cosa pure io, lo comprendo dal punto di vista psicologico oppure oltre che funzionale. Quindi nessun assio su questo. Io sono sempre, tra l'altro, cerco di mettere sempre da parte gli aspetti politici, le mie credenze politiche, perché io ho un ruolo e devo essere asettico nelle mie scelte, quindi aiutare l'uno e aiutare l'altro, assolutamente. Però la burocrazia, ma la burocrazia cos'è poi? Io sono un burocrate, non lo sono mai stato, mi ritrovo a essere burocrate. La burocrazia nasce perché le normative fanno nascere la burocrazia. Ripeto, una normativa esile, rapida, come quelle che spesso si fanno in comunità europea, in Germania, sono molto pratiche. Noi abbiamo una cultura dell'inutile complessità. Se lei guarda... Vabbè, lo sappiamo tutti, ma con questo ci abbiamo a che fare purtroppo i cittadini per primi. I cittadini lo so e le che ne piangono le conseguenze. Però, ripeto, da parte nostra tutto quello che si può fare lo facciamo. Non sta a me né dirlo né credermi. Basta venire là e poi passare una mattinata presso i nostri uffici per vedere quello che si fa. C'è la consapevolezza da parte vostra di essere additati come quelli che rallentano lo sviluppo di questa città o che comunque ostacolano. Però questo è nell'immagine... Perché se il cittadino alla fine assiste, il sindaco che rimpalla il dirigente, il dirigente che rimpalla la situazione, ma il cittadino dice ma io voglio risolto il problema, alla fine a me poco interessa. Lo capisco, siamo cittadini pure noi, vorremmo vedere le termine aperte, vorremmo vedere i randaggi vivere in maniera di qualità, in maniera più degna. Ripeto, ma se io ho degli strumenti che sono quello che sono, mi ammazzo la vita per cercare di risolvere, però si arriva a un certo livello e oltre non si può dare. Che si può fare? Chiedere più risorse, lo facciamo quotidianamente, figuriamoci quante lettere che facciamo ogni giorno di richiesta. Ma anche un sindaco che può fare quando una legislazione nazionale non è più un problema locale, qua è un problema di interrelazione, come dicevo poco fa, gerarchica fra pubblica amministrazione di livello, dal nazionale al regionale al locale. Il locale nasce, il sindaco piange quelle che sono scelte nazionali, del resto lo stiamo vedendo in questo momento. Anche perché poi è quello che si rapporta con il cittadino. Si rapporta fisicamente, quindi una scelta di un ministero che taglia ai sindaci tutto il personale, fa quota 100 senza fare un turnover, non pensando al danno che si fa. A quello che poi si è generato nell'apparato della pubblica amministrazione. Chi lo piange? Il sindaco è indirettamente anche il funzionario, ma il funzionario cosa dovrebbe fare? Chiedo a questo punto cosa dovremmo fare oltre a quello che lavoriamo pure di pomeriggio? Io personalmente anche di notte, ma perché se non lo facciamo non ce la facciamo, con quelle risorse che abbiamo. Quindi qual è l'accusa? Questo vorrei capire. Senti, pure c'è stato, ci sono stati dei momenti particolarmente di conflitto anche con questa amministrazione. Adesso non mi ricordo come il sindaco aveva definito l'apparato burocratico del comune, per non dire poi insomma il discorso anche delle polemiche sullo smart working. È una difficoltà alla quale l'è abituato? C'era anche con le precedenti amministrazioni? È cambiato qualcosa nel tempo? Non mi riferisco soltanto a questa. Con tutti i sindaci c'è sempre un rapporto a volte... Cioè voi avete litigato sempre un pochino? No, no, litigato no. Rispetto prima di tutto, perché se manca il rispetto è finita. Quindi il reciproco rispetto. Poi ci sono momenti di tensione causati da una sorta di bersaglio continuo sul sindaco, causati dal fatto che noi a volte siamo impotenti non avendo le risorse adeguate. E ripeto è un problema di legislazione nazionale. Del resto stiamo attraversando un momento che chiamiamo Draghi per risolvere un problema politico. Però lei ammetterà anche che non è solo un problema di norme, di burocrazia complicata, ma che in un comune si crea a volte quell'entusiasmo come anche non si può creare. Le dico, ci sono stati esempi in passato di approcci diversi, chiamiamoli così. Cioè anziché andare allo scontro, a scaricarsi le responsabilità, cerchiamo un approccio diverso. Sarebbe auspicabile anche questo perché abbiamo assistito, lei non potrà negare che abbiamo assistito a questa sorta di conflitto tra amministrazione, dirigenti, questo rimpallo di responsabilità c'è stato ed è evidente, è sotto gli occhi di tutti, non anche lo possiamo negare. Io capisco la sua posizione ma... Ma il conflitto noi non l'abbiamo fatto, né in televisione... Eh beh, voi lo diciamo che... Non possiamo farlo e non vogliamo farlo. Non potete farlo, ecco, ecco. Però c'è, cioè lo ha vissuto anche lei sulla sua pelle. Ma non è un conflitto continuo, è un'attenzione che si crea su magari su un argomento. Che poi non è un problema di persone, è un problema di ruoli appunto. Di ruoli, sì, sì. No, di persone, c'è il massimo rispetto. Che le persone, voglio dire, non c'entrano. Però è condincentato a determinati fatti che succedono. L'ultimo che è successo è quello delle Greenway, dove noi non c'entravamo niente. Si accusa addirittura il mio ufficio o qualcuno di noi o me stesso. Lei dice noi non l'abbiamo neanche né presentato né... L'ingegnere di Giovanna dice che ha dato un progetto, ma chi l'ha dato non lo so. Io non l'ho mai visto. Quindi probabilmente c'è stato un rapporto tra lui e l'assessore, non lo so, ma... E questo non è una cosa strana. All'interno di un comune, di fronte alla possibilità di presentare dei progetti, non ci si confronta tutti assieme per capire? Ognuno dà il proprio contributo, magari si migliora il progetto, magari si dice no, è inutile che lo presentiamo. Manca questo probabilmente? C'è stato un confronto, attenzione, è stato in precedenza, ma risale a mesi fa. Con l'assessore l'assessore abbiamo visto e se era valutato, io da partire, è un progetto che ha bisogno di essere completamente rimodulato, nonostante c'era tutto in effetti. Perché avrà 10 anni questo progetto, poi il di Giovanna diceva che l'aveva riaggiornato, ma io non l'ho visto questo aggiornamento. Tra l'altro... La destra non sa cosa fa la sinistra a questo punto. Ma se i terreni sono venduti, come si fa ad aggiornarlo? Sì, però voglio dire, se evidentemente qualcuno l'avrà collaborato, ci sarà stato qualcuno che avrà... Ci stavo arrivando, ci stavo arrivando. Non si mettono al corrente i dirigenti del settore tecnico, soprattutto? Quello no commento, però l'assessore Ocicero correttamente ne abbiamo parlato mesi fa. Per cui dicevo, va rimodulato e quindi siccome è in piano di rienale il secondo o terzo anno, non potevo ritenere possibile presentarlo. Poi non ci siamo più, ma anche se l'assessore Ocicero lo porta fisicamente lui a Palermo, io lo apprezzo perché è un momento di volontà per cercare di ottenere un finanziamento. Anche se non passa dall'ufficio, può avere una sua fisionomia politica più che tecnica. Non entro nel merito... L'ottica di quel discorso che facevamo poco fa, di quella sinergia a maggior ragione necessaria nei momenti in cui ci sono poche persone, pochi mezzi, pochi fonti. Non c'è dubbio. Se non si è uniti, se non si dà un contributo, allora veramente non si va avanti. Bisogna fare orchestra. L'orchestra non suona, non dice nonno, non c'è, non suona almeno. Non vado a commentare aspetti politici, su quello non ci vado. Può essere una soluzione anche l'innesto adesso di nuovi dirigenti, come è avvenuto recentemente, mi pare, a dicembre? È avvenuto l'ingegnere Salvatore Gioia, l'ho conosciuto, una persona in gamba, e per noi ci voleva, perché avevamo non solo il nostro settore, ma ad interim io e il dottore Todaro. Avevamo anche il sesto settore, che era il servizio idrico, toponomastica, insomma tutta una serie di cose che appesantiva. Poi alla fine uno, come dire, non riesce a seguire poi tutto per bene e concentrarsi. A volte non potendo essere neanche presente fisicamente su determinati fatti. Quindi che ben venga il nuovo dirigente, tra l'altro è stato ben caricato. lo smart working, quanto ha rallentato, comunque creato dei problemi, se li ha creati, magari funziona tutto anche qui perfettamente. Nel caso del... No, perché l'assessore Caracappa, mi ricordo che a settembre un richiamo a questo eccesso di smart working lo fece, indispettendono un poco sempre... Non entro nel merito del richiamo. Il personale. Il smart working è obbligatorio. Conte ha messo oltre il 50% dell'orario settimanale deve essere smart working. Quindi sia obbligatorio. Non solo, scrive anche... Sì, è obbligatorio. Bisogna vedere poi se tutti a casa lavoriamo bene. Ci arrivo. Dipende da noi. Eh, infatti. Perché c'è anche chi magari ha lavorato anche di più. Ci stava arrivando. Non solo, Conte dice, ogni dirigente, quindi nella normativa, non parla di altre figure, proprio richiama il dirigente, decide l'orario in maniera flessibile, tale che bisogna assicurare almeno il 50%. Quindi siamo obbligati. Non è che dobbiamo fare... Quindi io cosa ho fatto nel caso mio, che non è uguale agli altri settori? Distinguiamo un servizio a sportello da un servizio come il mio. Il mio è un servizio fatto spesso interno, di lavoro interno, di preparazione di atti, anche di progetti, ma anche di istruttoria di atti. Le confesso che abbiamo lavorato più smart working che fisicamente là, perché si è risparmiato tempo. La mattina già io sono operativo a casa e in certi casi addirittura un dipendente che, devo dire, aveva anche qualche criticità personale, lavora meglio da casa. In certi casi, poi, se c'è stato il cosiddetto, quello, fra virgolette, il fannullone, ma il fannullone va individuato, dipende da noi. Quindi anche noi dirigenti siamo a libri posti. E io, attenzione, per me era più semplice. Certo. Perché avevo un minor numero... Magari siete stati disturbati anche meno rispetto... No, almeno il numero di personale, di unità. Sì, ma anche, lei faceva accenno, anche il fatto di poter lavorare tranquillamente e di più, magari, rispetto a continuo ricamo, eccetera. Lei parlava e i fannulloni vanno individuati nell'immaginario collettivo. Ce ne è poi uno. Sì, ma anche quella è una leggenda metropolitana. Sì, ma di là della pecora nera che esiste in tutto il mondo, nell'apparato amministrativo burocratico, si riesce realmente ad isolare la pecora nera o a punirla? Perché poi il cittadino dice, ad esempio, abbiamo visto i tanti casi di assenteismo, di blitz, non stiamo riferendoci al comune di Sciacca. Ma poi, realmente, chi non lavora, chi si comporta male, viene punito? O addirittura capita anche che li premiamo qualche volta, no? Con tutti i blitz e le sanzioni si è mai risolto questo problema, no? No. E quindi non è quella la soluzione. La soluzione che io adotto, ovviamente, limitatamente al mio ufficio, è che quando c'è una persona che magari rallenta o magari perché vorrebbe, ma devo dire che nel caso mio non c'è, ma ripeto, siamo pochi noi, quindi. Ma lo strumento qual è? Valorizzarlo. Se gli piace fare qualcosa in particolare, una passione, o che sia la protezione civile o che sia l'istruttore della pratica, noi dobbiamo, è il nostro dovere tra l'altro farlo, valorizzare quella tendenza, ovviamente compatibilmente con tutti gli impegni che abbiamo. Per cui, se tiro fuori quello che c'è di buono in ognuno di noi, perché c'è sempre qualcuno di buono, lo faccio lavorare. Ed è quello il metodo che gli ho dotto io. Motivare. La sanzione. Motivarlo. Il motivatore deve fare il dirigente. Motivarlo anche, quando mi è possibile, anche economicamente. Ma al risultato ottenuto. Una delle cose, ad esempio, che non si comprende è come mai ci si lamenta tanto dei dirigenti della macchina amministrativa e poi però arrivano sempre le premialità. È un paradosso, no? Se io mi lamento che penso che non si faccia abbastanza, che non sono così bravi, che perdono finanziamenti e che sono in ritardo e che mi ostacolano addirittura nell'intervenire su la manutenzione di una strada, poi però non si capisce come arrivano sempre i premi. Io non so se si riferisce all'intervista fatta del sindaco, si parlava del... No, io dico in generale di tutto il comune, no? Si parla, però il sindaco stesso ha fatto un elenco di tanti finanziamenti che abbiamo, quindi si parlava solo del... No, no, no. Non mi riferisco all'ultimo caso. Dico negli anni. Si è sempre assistito a quella che lei chiama una leggenda metropolitana. La leggenda metropolitana si traduce alla fine in tante lamentele, però alla fine ti premio pura. Beh, se lo vedo come premio, sì. Il fatto è questo. La normativa prevede quella aliquota suppletiva sulla base dei risultati. Noi dirigenti non abbiamo un orario, non abbiamo un limite, quindi dobbiamo andare oltre. Si va per obiettivi. Si va per obiettivi. Quindi nel momento in cui ci si assegna degli obiettivi e li raggiungiamo, è quasi automatico. La normativa, tra l'altro, lo obbliga, quindi anche se un sindaco ipotetico dovesse dire quest'anno premio nessuno, non lo può neanche fare anche a volerlo fare, perché è la normativa che lo impone. A meno che ti ho dato questi obiettivi e non li raggiungi, ma quegli obiettivi che di solito abbiamo ogni anno li raggiungiamo. Però non si capisce perché si lamentano allora. Allora, faccio un esempio pratico, che è quello che tocca a tutti noi cittadini, compreso me con l'auto, le buche delle strade o la manutenzione delle strade. Se io nel mio capitolo ho 40 mila euro, è un discorso. Se ho 4 milioni, è un altro discorso. Quando mi si può accusare l'ufficio, il sindaco che sia, ah ma le strade, sì, d'accordo, ma qual è la soluzione? Se il bilancio comprende una determinata aliquota dedicata alla manutenzione delle strade, quella è, con quella ci dobbiamo cuocere. Via Aldomoro, fra poco partirà, sarà fatta tutta via Aldomoro. Solo quella via… Alleluia, alleluia! Alleluia, però una procedura di appalto che comprende andare all'urega, preparare… Cioè, è inutile che vi faccio l'elenco delle cose che bisogna fare. Sì, ma saranno almeno 10 anni che… Ma per fare 10 metri di strada ci vogliono 10 chilometri di carte. È quello che io critico. La normativa ci deve semplificare. Controlli, d'accordo? Ma se tu mi fai perdere tempo… Questo sarebbe miracolo italiano. Noi perdiamo tutta la giornata tempo a fare report, schede, Caronte, Caronte è un'altra piattaforma dove cavare tutte le informazioni. Ma io sono stato una giornata, ma nel frattempo la strada chi la fa? Cioè, qua dobbiamo andare anche al pratico delle cose. Ed è un problema di carattere nazionale. Non lo può cambiare il sindaco questo. Andiamo alle situazioni. Almeno parliamo di qualche cosa positiva. Parliamo di strada. Quindi, oltre alla via Aldomoro, che già è una notizia che farà felici, tutti gli abitanti di contrata Isabella, tutti i ragazzi e studenti e docenti dell'alberghiero che da anni giustamente evidenziano le condizioni di disastro… L'alberghiero, spiacevolmente, non ci possiamo arrivare. Le cose sempre a metà. La via Aldomoro, sa quanto è costata per Aldomoro? Parliamo per capirci dalla pizzeria Mare che esce dove c'è la curva, al bivio dove c'era una volta la partenza della famosa crono scalata. Solo quello costa 300 mila euro, 200 mila euro, perché poi noi aggiungiamo la parte di via Marco Polo, che sarebbe la stradina che porta verso gli alberghi della Sitas, e parte di via Lido. Finiti, totale, 500 mila euro, comprese le somme di spesa. E questo era il famoso mutuo? Il famoso mutuo. Più altri 300 mila euro, di cui circa 200 dedicati ai lavori, per strade rurali. Ma non sono sufficienti. Ci vorrebbero milioni e milioni per avere una città. Ti detto pure lei comincia a dire che non ci sono soldi. Già sentiamo i vari amministratori. Ma che dobbiamo fare? Ma i soldi ci sono. Ma perché la comunità europea ci finanzia solo? E allora non li sappiamo spendere. No, se esce un bando di finanziamento, perché mi esce sempre sullo risparmio energetico o sul fotovoltaico? Perché non esce un bel bando di 4 milioni di manutenzione stradale? Dipende anche da quello. Quindi i soldi ci sono. Arrivano i soldi. La comunità europea, l'unico aspetto positivo è che noi siamo in Europa e i soldi li abbiamo e li dobbiamo spendere. Ma quello che vedo è che le voci sono sempre le stesse. Le scuole, devo dire, hanno messo a posto. Le scuole hanno investito tanto. Io in dieci anni personalmente, ho fatto tutte le scuole nuove. Ho fatto tutte le scuole nuove. Noi ce lo ricordiamo, perché noi abbiamo qualche età. La via Campania, via Gattusi. Via Gattusi era ridotta malissimo, Sant'Agostino. Negli ultimi dieci anni credo che sulle scuole sia arrivato più. E ancora c'è da lavorarci. Ancora c'è da lavorarci. Ancora c'è tutto l'adeguamento sismico. Quindi sulle scuole è come siamo messi. Possiamo dire lì stiamo bene. Non c'è il pallo di colpe e di responsabilità. No, no. Ma poi non c'è motivo di esserci. Perché quando le cose si fanno, la bella figura per così dire, la facciamo tutti. Sia la parte politica sia la parte religenziale. Quindi lo scontro, diciamo, non serve a nessuno. Sulle scuole abbiamo ottenuto pure 12 finanziamenti su 12 scuole, comprese le palestre. Ritengo che sia importante. Per la verifica dei solai. Che spesso noi abbiamo. Ci sembra che la scuola è bella e perfetta. Tutta ha il cappottino nuovo, eccetera, eccetera. E poi magari c'è quella parte di intonaco che è lo stato superficiale che cade addosso ai bambini. Quindi stiamo avviando subito le verifiche e monitoraggio di tutti i solai contro soffitti delle scuole, che è importante. In più 70 mila euro per ogni scuola, per un totale di circa 800 mila euro, tutte le scuole, di riadeguamento di tutti gli impianti ad incendio. Ha una nuova normativa che è uscita nel 2019, andremo in serie. Fra poco partirà il mercato ittico. Senta, sulle scuole si sta facendo questa verifica per poi eventualmente accedere ad altri finanziamenti e intervenire da dove fosse necessario o è in questo contesto che poi eventualmente si interverrebbe? Dipende dai bandi, dipende dai bandi, perché i bandi finanziano determinate voci. In quel caso era antincendio, era quella la voce. Quindi noi ci adeguiamo a quello che è il bando. Per questo dico, perché non esce un bel bando per rifare tutte le strade nuove? Allora sì. Lo richiede, lo andremo a richiedere. Ma ci vogliono 20 milioni, non un milione. Viste le condizioni delle nostre strade, forse anche di più. Senti, a proposito di scuole, l'ex silonido di Via del Sole è nato così, poi utilizzato peraltro. Facciamo il punto su questa scuola chiusa da quanti anni? A Mascagni credo... Ce la siamo scordati. Credo da 5 anni. Almeno infatti 4 anni sono sicura. 4-5 anni. Che succede per questa scuola? Potranno finalmente tornare? A Mascagni abbiamo ottenuto il finanziamento. Il finanziamento comprendeva anche una verifica della vulnerabilità sismica ed è stato incaricato l'ingegnere Scarpulla che ha fatto il lavoro. Già la regione lo hanno esaminato, lo hanno ritenuto valido e quindi fra poco partiranno i lavori. La gara è già stata giudicata. Adesso non ricordo il nome dell'impresa perché non talmente tante. La tempistica dei lavori per capire se... Si sta facendo la verifica dei requisiti del giudicatario. Fra poco andrà all'ufficio contratti, il segretario generale firmerà il contratto. Dopo il momento faremo la consegna. Tempi? Posso dire due mesi per l'inizio. Ecco, per dare un'idea. Per l'inizio dei lavori. Poi sarà un intervento piuttosto corposo ritengono? Corposo ma molto puntato sulla staticità. Quindi micropali, diciamo nel rapporto tra fondazione e terreno ci si è concentrati nell'intervento. Perché il problema di questa scuola è proprio quello, come qualcuno volgalmente dice, che galleggiava. Quindi la dobbiamo ben fissare a terreno. Dopodiché anche degli interventi di completamento. Quindi diciamo che difficilmente dal prossimo anno scolastico si potrà tornare in quell'edificio. Ci possiamo tentare. Lei non crea illusioni, perché poi le dicono... Ci possiamo tentare. Tra l'altro tengo a precisare che ora il procedimento sarà seguito dall'ingegnere Gioia, ma fra di noi collaboriamo. Questo non è però un perdersi poi. Perché io inizio il progetto, poi proseguo con... Allora, se la rotazione dei dirigenti è un bene perché nasce dal presupposto che nessuno deve avere centri di potere e di comando, dall'altro lato però, se io cambio ogni due mesi... È un rallentamento fisiologico, inevitabile. Si può evitare nelle consegne, nell'accompagnamento, diciamo, questo passo. Però non si può negare che un rallentamento c'è. La normativa c'è l'ordine. Anche perché non si capisce poi a quel punto chi si è il responsabile, chi è iniziato, chi ha seguito il corso d'opera e chi consegna. È lì. Ecco che nessuno è responsabile alla fine, no? Meriti non ne vogliamo. Noi facciamo il nostro lavoro. Responsabilità limitatamente a quello che si è fatto. Non lo individuiamo alla fine. No, è limitata a quel periodo, no? Le responsabilità sono limitate a quel periodo in cui uno ha quella dirigenza. Lì a maggior ragione è necessario il dialogo e la collaborazione tra gli dirigenti. Sì, sì, sì. Devo dire che c'è un ottimo rapporto con l'ingegnere Giovi, ci siamo visti, c'è un'intesa. Quindi se c'è bisogno ci aiutiamo vicendevolmente. Non è nessun problema su questo. Quindi sulle scuole possiamo dare buone notizie. Siamo messi bene. Ci saranno altri finanziamenti perché continuano ad arrivare. Andiamo alla Casalbergo per Anziani. Una vicenda che lei ha seguito. Sembrava che tutto procedesse anche lì finalmente speditamente con l'affidamento alla società e invece addirittura scopriamo che la Regione ci richiede indietro i soldi. Anche lì, come il discorso di poco fa della famosa inaccettazione e ricevibilità delle Giovi, vedo qualcosa di strano nell'assessorato. La Casalbergo è realizzata, è bellissima, è là, è arredata. Non solo, negli ultimi tempi, io non avevo più il patrimonio quindi non seguivo più, era affidato a un altro dirigente. Negli ultimi tempi è vero che l'aggiudicatario, che era l'arcobaleno, non avviava per una serie di problematiche che non vado a descrivere quello che era la consegna e la gestione, ma è pur vero che c'era qualcosa. Avevamo messo gli addetti della protezione civile per creare degli uffici di carattere sociale, anche di accoglienza, eccetera, eccetera. Un minimo funzionamento c'era. Tra l'altro un funzionario che è venuto qua a fare un'ispezione ci ha detto fatelo funzionare, perlomeno. a sorpresa, dopo circa un paio di mesi da questa ispezione, l'epoca del finanziamento. Qual è la mia impressione? È quello che diceva lei poco fa, cioè dello scaricabarile. E mi metto nei panni anche del funzionario regionale, perché anche lui ha le sue buone responsabilità, lo comprendo in un certo senso. Nel momento in cui dalla comunità europea o dal ministero, eccetera, vedi che tu, se no, poi ne piangi tu le conseguenze. Allora io subito... Ritirato, revocato tutto. Ma non c'era un reale motivo di revoca. La casa è là, l'abbiamo realizzata, nessuno si è messo i soldi in tasca. Cioè chiedono indietro dei fondi per una cosa che è stata realizzata. Ma tre milioni, per una cosa che l'ha realizzata. Cioè tu gli stai ritirando una opera eseguita, realizzata e con grande qualità, alla vista di tutti, solo perché là dentro non c'è ancora un funzionamento, tra l'altro con un procedimento di carattere legale, forse già avviato, in corso. Quindi non è inerzia, è una procedura che deve avere i suoi tempi. Nel momento in cui si attiva una procedura legale poi, i tempi sono quelli che sono, dobbiamo attendere, è inutile che... E allora, la revoca del finanziamento, mi chiedo ancora, ma perché? L'opera là è? Qualcuno si è messo i soldi in tasca? Quindi lì credo... A che punto siamo però in questa procedura che comunque c'è? Io non la seguo io perché fa parte del patrimonio. Se noi dovessimo restituire veramente questi fondi sarebbe un danno, dovrebbe chiudere e basta. Devo dire che l'amministrazione dovrà compensare con altre entrate. Ripeto, io non ho il patrimonio, non ho più seguito dal di dentro la Casa Bergo, anche se spesso ho partecipato a tutte le riunioni, ho visto quello che è successo. Io credo che ci possa essere un 50% di probabilità in un esito positivo in un procedimento legale. Perché, ripeto, quella revoca del finanziamento è un finanziamento destinato a una realizzazione di un'opera pubblica. E l'opera pubblica è stata realizzata. C'è, è là ed è di qualità. Non è funzionante. Non è funzionante per un problema di, chiamiamolo, contenzioso con la giudicataria, che va risolto. Ma non si possono revocare, a mio parere, a mio potesto parere, ovviamente, 3 milioni a un comune solo perché ancora non funziona. Si può fare una sanzione, si possono prendere provvedimenti, eccetera. Ma revocare 3 milioni, secondo me, è fuori posto, molto fuori posto. Senta, ma l'aggiudicazione, l'apertura poi di questa struttura, noi vedremo una luce in fondo per questo lungo tunnel pure. La struttura, dobbiamo rendersi conto, perché questa struttura prima o poi rischia, tra l'altro, di deteriorarsi nel tempo. Esatto, bisogna prenderla in tempo. Quindi, io cosa posso consigliare a me, ai colleghi e anche all'amministrazione? Farla funzionare anche con nostri dipendenti, perlomeno anche parzialmente. Anche il fatto di entrare e aprire i rubinetti già è qualcosa che non finisca come le terme, come lo stabilimento, per esempio, perché bastava lasciare i dipendenti, in quel caso, perlomeno badavano per il mio. Le dice, quantomeno apriamo o facciamo funzionare gli impianti? Ma almeno il mantenimento fisico, se non gestionale, della struttura. Quindi quello, io lo consiglierei a chi ha il patrimonio, attualmente credo che sia passato all'ingegnere Gioia, perlomeno quello. Infiliamoci dei nostri dipendenti che si occupano di sociale, ovviamente, quindi compatibili con la struttura. Apriamo i rubinetti, facciamo funzionare gli impianti che non si perdano. E ovviamente il vivere una struttura la mantiene viva. L'abbandono e il deserto e il degrado totale. Un'altra struttura abbandonata è quella della piscina di Contrada Perriera. Anche lì non si è riusciti nel tempo ad affidarla questa struttura. E anche lì abbiamo perso tanto. Ricordo un dettaglio. Avevo io il patrimonio. Sulla piscina ho fatto io il bando. E siccome prima di fare il bando ho fatto un'analisi di costi e ricavi, e mi rendevo conto che in effetti erano molto i costi. Per cui la gestione di quella piscina doveva diversificarsi con altre funzionalità. Non solo piscina. Fateci pure il ristorante, la pizzeria, in modo che chi lo gestisce possa avere delle entrate alternative. La vasca per fisioterapia, eccetera. e mi rendevo conto di quello. Per cui ho fatto un bando con un canone di concessione di 2.800 euro all'anno. Eppure non ci furono. Regalato. Deserta. Nessuno si è presentato. Ma perché a suo avviso? Non c'è più l'interesse verso questa città. Noi abbiamo perso appilla anche da questo punto di vista. Perché non dico, non andiamo anche oltre gli imprenditori locali, le associazioni locali. Cioè questa, lei lo nota che è una città che ha perso appilla da tutti i punti di vista? Io sciacca la trovo bellissima. Non sono d'accordo. Ma che sia bella, guardi. Con questo pessimismo diffuso non sono d'accordo. Guardi, che sia bella è inescrivibile. E non ne ho i difetti. No. Ma io ricordo la sciacca di vent'anni fa e quella di oggi. È sicuramente, qualitativamente migliorata enormemente. Sì, ma io le ricordo che il teatro chiuso era e chiuso. Che le terme sono chiuse mentre prima erano apeste. Non c'è dubbio. Che la piscina è ancora chiusa. Che la casalbergo è ancora chiusa. Che le strade... Non c'è dubbio. Non abbiamo soldi, aspettiamo. Non c'è dubbio su questo. Non c'è dubbio su questo. Però va analizzato. Non è che basta la bellezza. Lei lo sa. Ma bisogna conoscere quello che succede. La bellezza come per le donne. Bellezza intendo qualità. Non la bellezza, la qualità di vita, di sciacca c'è. Con tutti questi difetti. Però ognuno di questi difetti va analizzato singolarmente. Perché la storia della piscina è diversa dalla storia di casalbergo. La storia delle terme è diversa. Quindi ognuno va analizzato. Purtroppo c'è una convincenza di fatti. Purtroppo non ne veniamo a capo. Stanno succedendo tutte assieme. No, ma non ne veniamo a capo. Cioè, è questo. E alla fine noi parliamo sempre... Andiamo alla soluzione. ...per gli stessi problemi. Piscina, per esempio. Secondo me piscina bisogna fare subito, da parte di chi vuole gestirla, una possibilità di approvvigionamento dell'acqua. Dell'acqua proprio addirittura chissà che sia pure termale. Perché il territorio di Sciacca è pieno di acqua termale. E quindi con dei saggi, dei sondaggi, per poter avere fisicamente l'acqua della piscina. Perché se io devo pagare la bolletta a girgente acqua dell'acqua della piscina, è ovvio che non ce la faccio. Quindi già l'imprenditore parte svantaggiato. Solo per riempirla già io mi metto sotto economicamente. Quindi già quello, diciamo, sono problemi poi pratici. Quindi che vanno risolti in questa maniera. Casalbergo, anche lì c'è un problema simile. Perché per gestire Casalbergo, le spese ci sono. Poi il canone, devo dire, era anche consistente, era 50 mila euro all'anno. Per cui mi metto nei panni anche dell'imprenditore che trova difficoltà poi a portare avanti questo. Però mi chiedo pure una tariffa standard di un anziano. Lì è prevista una disponibilità di 61 anziani. E di una certa clientela anche. E di una certa clientela. Diciamo, il canone per singola unità è anche consistente. Per cui quando io avevo fatto, il bando l'avevo fatto io, l'analisi di costi dei cavi che era molto più complessa di quella delle piscine. E beh, il guadagno c'era. Probabilmente l'operatore economico avrà i suoi buoni motivi e lì ci siamo bloccati. Ma un motivo c'è sempre, purtroppo c'è un motivo. Motivi ci sono sempre. Quello che io le dicevo è che questa città però non va avanti alla fine. La soluzione si potrebbe trovare in una sorta di accordo con l'attuale concessionario di Targobaleno per cercare il limite di agevolarlo. Tra l'altro nel bando è previsto. È previsto una procedura di start-up. Cioè il primo anno non ti faccio pagare o ti faccio pagare per metà. Avevo inserito io questo perché mi rendevo conto che i primi due anni dovevano mettersi a regime. Quindi avevo messo la fase di start-up, la possibilità di ottenere delle agevolazioni però a scelta dell'amministrazione e da fare ovviamente con singola delibera di giunta per poter agevolare l'operatore economico. Sa di fatto che purtroppo l'operatore economico trova delle difficoltà che non vado a descrivere i dettagli, che più o meno contestabili dove bisogna lavorarci. E ripeto, le soluzioni si trovano sempre sedendosi assieme e incrociandosi. Contrariamente se si va alla procedura legale come forse si andrà, i tempi saranno lunghi. Ci si deve sedere tutti intorno al tavolo. Tutti, tutti. Diligenza, amministrazione, imprenditoria. Forse noi andiamo sempre contro ma siamo poco capaci di marciare tutti uniti. Ma lo facciamo, lo facciamo. Adesso so che lei mi dirà, no, io di politica non mi occupo. Questa è una città litigiosa, lo abbiamo visto anche con la politica. Un commento io glielo chiedo sullo scioglimento del Consiglio Comunale, non si era mai verificato. Questo per dire al livello in cui siamo arrivati, livello di scontro tra politica, tra politica e burocrazia, tra imprenditoria, burocrazia e politica. Quando io facevo riferimento a questa è una città che non cresce, non cresce anche per tutto questo, perché è bellissima ma non marciamo tutti nella stessa direzione. È un fallimento della democrazia questo, perché l'esistenza di un Consiglio assicura a ognuno di dire la sua. E anche di un controllo, devo dire anche un controllo su di noi, che non è che tutto quello che facciamo noi è perfetto. Sbagliamo, chi lavora sbaglia, chi non lavora non sbaglia mai qualcuno dice. E spesso anche il Consiglio serve anche a correggere il fatto delle interrogazioni, le commissioni consigliarie. E da stimolo, da… Si partecipa assieme, è vero, hai ragione, forse se facciamo così è meglio, quindi si trovano, si migliorano le soluzioni. E' ovvio. Quello che è successo è forse più che politico è più un fatto tecnico, perché il fatto di non approvare o di mettere in discussione l'approvazione di un bilancio diventa un fatto pericoloso per un comune, per il dissesto di un comune che trova riscontro nella normativa. La normativa ci impone che a un certo punto, se certi atti tecnici non vengono approvati, scatta immediatamente il commissariamento, è norma. E lì diventa una gestione tecnica, tecnica, perché il commissario non fa altro che asetticamente guardare gli atti, in maniera, devo dire, abbiamo avuto a che fare con un commissario molto preciso e professionale e approvarli semplicemente. Ma è finito il dibattito politico, è finito quello che… Anche l'umore, l'umore che però nel rispetto delle persone va verso la soluzione dei problemi. Quando non si approvano atti fondamentali, secondo me, lì si commette un errore. Bisogna approvarli. Io ricordo l'anno scorso, non si è approvato un atto che riguardava il bilancio, abbiamo avuto un rallentamento enorme, enorme, non volendo per questo accusare, perché sia l'opposizione sia l'amministrazione hanno le loro buone ragioni, non c'entrano in merito. Però quando ci sono atti tecnici che riguardano il bilancio, bisogna stare attenti a non danneggiare poi noi stessi alla fine, perché si rallenta tutta la macchina operativa, io non posso fare più un impegno di spesa, perché il ragioneria mi ha detto, no, senza approfondire il bilancio ti puoi scordare di impegnare 40.000 euro per la strada. Punto. E si blocca tutto. Dici, ma perché Misuraga non impegna queste somme se c'è 40.000 euro, ma bisogna conoscere queste cose, non potendo ovviamente scaricare su nessuno e neanche scaricarmi io delle responsabilità. Ma io ritengo che quello che io posso fare lo faccio commettendo probabilmente anche errori, strada facendo, ma non trovo grandi inerzie in quello che facciamo. Lei parlava poco fa, noi i progetti li facciamo, li faremo, adesso se ne occuperà a tempo pieno, perché tra le competenze nuove... Ora più che mai. Ora più che mai. Quindi che cosa speriamo di intercettare? Quali progetti già abbiamo pronti, su quali possiamo buttare? Perché poi un'altra cosa, architetto, non c'è una visione di città. Cioè si rincorre... D'accordissimo. Cioè noi siamo una città in cui va appresso a mille cose, poi di 1999 non riusciamo, una sì, ma perché pure non abbiamo una visione di quello che vogliamo far diventare questa città? Per avere una visione di città ci vuole un progetto di città. Ecco, e che deve avere la politica. Un complessivo, ma anche te. Che deve avere la politica che poi lo dà. La politica come indirizzo. Cosa voglio fare di Sciacca è la politica che decide. Come farlo? E' il tecnico. E' il tecnico. Ed è una bella domanda, è una bella cosa che tra l'altro mi trovo d'accordissimo. Ma per avere l'idea di città bisogna lavorarci per bene. Bisogna avere le idee chiare. E avere conoscenza di tutto. Avere conoscenza pure di quelle particelle di terreno che sono convinto che mi appartengono come proprietà e poi scopro che è una proprietà privata. Ah, di queste ce ne sono errori. Ecco, quindi bisogna partire da zero. E ci vuole tempo, staff, persone. E' una scelta politica. Se si vuole fare però bisogna dedicare una piccola orchestra solo per fare l'idea di città. Ovviamente prima la scelta viene politica. Se l'idea di città... Lei l'ha vista in qualche... c'è stata qualche amministrazione, non facciamo i nomi, negli anni. Lei ha visto che c'era una visione di città? Poi magari non è tutto andato bene? O anche ora vedo una visione... Cioè ha visto sprazzi di entusiasmo, di rinascita? Ho visto vede? Io non voglio fare assolutamente... Tutti, ovviamente io sono anni che sono là, quindi vedo scorrere... Lei ne ha visto passare i sindaci, non a caso io gliel'ho fatta. E tutti hanno quella... Nessuno... ma è ovvio, chi si insiede a fare sindaci... C'ha l'entusiasmo. Si metta lei nei panni, ma è ovvio che c'ha l'entusiasmo. E che cosa succede? E spesso si trova anche impotente a farlo, magari pensando anche male di noi, perché poi... ma a volte non comprendendo che sono aspetti normativi e giuridici che ci obbligano a certe cose. Discorso a parte. L'idea di città credo che tutti vorremmo averla e forse un po' ce l'abbiamo di quello che vuole essere Sciacca. Io ricordo che qua noi abbiamo avuto Dolce Gabbana, Google e tutti questi ciclopi, chiamiamolo così, e beh qualcosa avranno visto Sciacca. Allora se il nostro DNA, ecco, usciamo fuori il DNA della città, se è quello turistico, ma non solo turistico, perché sarebbe poi riduttivo, ma vivere di tutto un insieme di servizi e quindi di imprenditoria che si apre a quel tipo di servizi. Non solo io punto ovviamente a creare i presupposti per agevolare quell'impresa, quell'imprenditoria, compresa la piscina, ma agevolo anche il turista che viene a Sciacca per vedere qualcosa. Però io sinceramente ho girato mezza Europa. Ogni città ha un suo punto forte. E ovvio che se li va a Parigi, ad Orreff, ad Orreff. E quindi noi dovremmo avere un punto forte Sciacca da visitare, può essere il museo, può essere qualsiasi, ma molto forte, che sia anche di fama internazionale. Il teatro di Samonà poteva anche diventare il centro convegnistico di tutta l'architettura internazionale, potrei dire. Ma quello non è, poteva, ma è ancora lì. È ancora lì. Quindi non ha più un ruolo di teatro, fine a se stesso. Vediamo l'operetta e ce ne andiamo tutte a casa contenti. Diventa una sorta di simbolo, una sorta di torre Eiffel di Sciacca, su cui concentrare, da andare a vedere e da ovviamente creare anche dei flussi. Perché se io creo un appuntamento o biennale o annuale dell'architettura internazionale, dove da tutto il mondo vengono qua per incontrarsi i migliori architetti, io parlo di architettura perché è il mio campo. Ma lei immagina che flusso di gente e che momento che noi abbiamo. Se creiamo questi momenti puntuali ogni anno, uno sarà per l'architettura, uno sarà per la cucina, quindi con grossi flussi, non limitati solo alla nostra provincia. Non basta il blu, la festa, quella che facciamo. Deve essere qualcosa di qualitativamente molto più elevata. E ovviamente per fare questo non possiamo lavorare soltanto con le nostre armi. dobbiamo appoggiarci a specialisti, a grossi specialisti, chiedendo anche aiuto a chi è stato qua, compreso Dolce e Gabbana. Però ad esempio di Dolce e Gabbana, noi in quel periodo abbiamo scoperto quanto era bella Sciacca chiusa al transito dei via auto e motorini, abbiamo scoperto come si può abbellire ulteriormente con facilità. Perché tutto è possibile con Dolce e Gabbana e poi il commerciante singolo per piazzare un gazebo o per mettere dei tavolini deve fare un'altra fila e non è detto che ottenga le autorizzazioni. Lì scatta un poco di nervoso. Lo comprendo. Dolce e Gabbana hanno stravolto Sciacca in una settimana. Era un evento. E allora il cittadino si chiede ma le leggi, le normative, tutte quelle che rallentano valgono solo per il cittadino comune? Rispondo con una domanda alla domanda. Il giorno del mio matrimonio è lo stesso di tutti i giorni? No. Cioè quello è un evento, non lo posso paragonare alla quotidianità. E' ovvio che ognuno di noi poi si concentra per fare per la riuscita dell'evento si concentra col massimo delle forze. Viene rabbia ma perché quel massimo delle forze non li mette ogni giorno? Si dovrebbe mettere tutti i giorni. Si dovrebbe mettere ogni giorno. Quindi non è un problema solo di normative, di leggi, di carini, di ostacoli. Ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo solo messo a disposizione un manufatto. Ma si è potuto fare di tutto. Ma hanno fatto tutto loro. Le ripeto, qua il cittadino per collocare un tavolinetto e due sedi, un impreso, per tutela il centro storico, le auto. E' un evento, è un evento. Ma noi dovremmo marciare tutti perché questi eventi dovrebbero diventare la routine. E allora sì, quel salto di qualità. Magari, ma non è facile. Non è facile anche perché tra l'altro loro hanno uno staff organizzato. Dolce e Gabbana, qua io ho conosciuto tutti, tutti quelli che ho collaborati per la parte del Palazzo Lunale. Collaudati. Perché fanno solo quello. Sono il famoso staff. Di quello mi occupo e quello faccio di petto. E' inutile che ognuno mi chiama per cose diverse. E' la stessa cosa. E quindi la riuscita c'è. Certo, io non so, la concessione del tavolinetto, cose non passano da me. Per esempio, come per dire che per sistemare un cancello si tira fuori l'architetto Misuraka che si oppone alla sistemazione del cancello. Perché si dice di tutto, lei lo sa. Che lei ormai è diventato. Quello che si dice. Che se c'è qualche problema, la colpa è dell'architetto Misuraka. L'architetto Misuraka. È vero. Allora, quest'architetto Misuraka ostacola tutto, sciacca. Allora, se si dice questo, basta venire a trovare l'architetto Misuraka e chiedere perché mi ostacoli questo? E la risposta ci sarà. Il fatto è che spesso si giudica senza sapere. Il giudizio senza conoscere le cose è la peggiore delle cose che si possa fare. E purtroppo con i vostri mezzi questo si amplifica enormemente. Per cui chi si alza la mattina e dice che sarà colpa di Genuardi o di Misuraka potrebbe anche avere ragione. Perché poi su Facebook bisogna vedere quello che c'è scritto. Quello è un mondo a parte. Perché c'è gente che io conosco che mai direbbe di presenza quello che c'è scritto. Quello è un mondo a parte, architetto. Quello ormai è diventato... Però è potente. Sì, sì, sì. Anche perché non è soggetto a nessun controllo. Cioè se io sbaglio una virgola a me mi denunciano come denunciano a lei. Lì si può scrivere di tutto. Perché dietro una tastiera... Però è facile incolpare. Poi mi chiedo una cosa. Ma questo per tutti, anche per noi. Anche noi siamo sottoporsi al linciaggio di Facebook. Non c'è dubbio. Tutti quelli che... Ma trovare il colpevole mi risolve il problema. No. Se io penso che ci sia... Si dovrebbe pretendere che il problema si risolva. Sì. Ma consultiamo il colpevole. Chiediamo. Si dovrebbe pretendere. Dovremmo tutti pretendere. Io spesso perché faremo questo. Quando poi mi chiedono e glielo spiego. Ah, così è, ah, così è. Perché te ne vai in televisione a dire delle castronerie. Ma perché quello fa parte poi del circolo della scarica delle responsabilità. Sì, però. Perché? Nel momento in cui ci sono responsabilità bisogna stare attenti a quello che si dice. Allora concludiamolo con una cosa positiva. di questi bandi comunitari, di questo fiume di denaro. Noi che cosa speriamo di intercettare? Allora, innanzitutto come organizzazione, perché stiamo chiedendo alcune cose anche col sindaco, credo che dovremmo lavorare in tandem con l'ingegnere Gioia. Perché io dovrei curare l'aspetto proprio di approccio al finanziamento per poi la parte dei lavori. Cioè dovrebbe essere proseguita lui. Quindi ritengo che dovremmo lavorare in tandem assieme. imminente ce ne posso richiamare uno che è quello per infrastrutture sociali del Ministero Infrastrutture, se non ricordo male, dove finanziano, e già c'è il finanziamento, in pratica c'è, quindi è quasi automatico, circa 56 mila euro per ogni anno fino al 2023. Per un totale di 200. Per infrastrutture sociali. Dobbiamo decidere. Del tipo? Del tipo io avrei già deciso, però sta anche il sindaco raccordarci con lui. Per me il Palazzo Comunale ha molto bisogno, il Palazzo Comunale ci vorrebbero veramente 15 milioni, ma perlomeno per aggiustare alcune cose. Perché finanziano infrastrutture sociali di qualsiasi tipo, ma anche uffici pubblici amministrativi e roba del genere. Il Palazzo Comunale ha molte urgenze. Tra l'altro è il palazzo di cui tutti sono innamorati, coloro, quelli che vengono da fuori, compreso Serro Coforte. E Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Va bene. Allora, l'aspettiamo tra qualche tempo per fare il punto su questi progetti, su quanti verranno a buon fine, quanti verranno finanziati e quanti non. Quelli che sono passati da me, devo dire, sono andati a buon fine. Incrociamo le dita. Grazie intanto per aver partecipato alla trasmissione. Grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi per averci seguito.